E abbiamo davanti a voi il passivo Il passaggio scandito dal suono del 33 Il passaggio della prima avvisaglia di questa gente Di questa terra che l'anno scorso con grande gioia Con grande calore e con una disponibilità straordinaria Si ha osservato per commemorare e celebrare la nostra ostandesima alzata I valli erano sole, abbandonate Una generazione di giovani non vede più il ritorno E la gran parte di quelli viveva e abitava nelle valli cuneici Grazie E' una visione davvero straordinaria Dalla nostra portazione E' una visione davvero straordinaria 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 Il Presidente del Augusto, Tirano, mai tardi! Mai tardi al quinto! Tirano, con la fanfana del concelato della robita! La nostra privata erotica! La nostra erotica mai morta! La nostra erotica che precede la Sessione Portolinese di Tirano! La nostra erotica! Il Presidente del Toro Montesuoio! Il canto! Lega! Il Presidente del Toro Montesuoio!